The New Stories. La tua informazione libera. La sua informazione libera. Una prima ricostruzione suggerisce che sia morta a causa di un infarto, anche se questo deve ancora essere confermato. Con l'arrivo della bella stagione, incidenti e malori sulle spiagge purtroppo diventano più frequenti, riempiendo spesso le pagine dei quotidiani con notizie simili. Grazie a tutti.